Ancora tre funzionari, due della regione siciliana ed una del ministero, sono saliti sul banco dei testimoni ieri mattina nell'ambito del processo sull'affidamento senza gara del sistema di informatizzazione del PTA di Giarre che vede imputati per truffa gravata ed abuso d'ufficio Melchiorre, Fidelbo, marito della senatrice Anna Finocchiaro e Giovanni Pulisi, Giuseppe Calaciure e Antonio Scavone, tutti ex funzionari dell'azienda sanitaria di Catania. Davanti alla terza sezione penale del Tribunale di Catania, preseduta da Rosanna Cassagnola, sono emerse nuovamente le sollecitazioni compiute da Fidelbo agli uffici regionali affinché fossero portati a compimento gli adempimenti previsti nelle linee guide emanate dal Ministero della Salute per la realizzazione dei presidi territoriali di assistenza. La funzionaria regionale Giada Licalzi, insediatasi nel 2009 nell'ufficio di gabinetto dell'assessorato regionale alla sanità, ha raccontato di uno scambio di email con Melchiorre, Fidelbo e di una conversazione in particolare avuta negli uffici nel corso della quale il ginecologo le avrebbe parlato di un modello organizzativo già approntato per il PTA di Giarre, un progetto di massima validato dall'ispettorato alla sanità ma non dal Ministero, come invece prevedeva la procedura. Un progetto che la funzionarebbe poi modo di vedere e nel quale notò, come ha raccontato in aula, una sproporzione di costi nelle voci relative proprio al sistema di informatizzazione, una cifra pari a circa 800.000 euro. Si è tornati poi a parlare del progetto inviato dall'ispettorato regionale alla sanità al Ministero, ma Roma non venne preso in considerazione, ha riferito la funzionaria ministeriale Paolina Caputo, per il modo irrituale in cui arrivò, cioè Brevi Mano, e perché l'interlocutore del Ministero era l'assessorato regionale che sempre a novembre inviò la propria linea programmatica. Anche in questo caso, ha raccontato la testimone Fidel Bocchiese, negli uffici ministeriali notizie sul cofinanziamento, sulle procedure e sui termini. Infine, l'ultimo testimone Maurizio Guizzardi, all'epoca dei fatti con funzione di coordinamento delle attività dell'assessorato alla sanità, ha riferito su domanda del pubblico ministero Alessandro Larosa che probabilmente la scelta di Giarre come sede del PTA sia stata conseguenza del fatto che in assessorato era noto che c'era già una progettazione per quel sito. Fissata al 14 ottobre la prossima udienza, previsti gli ultimi testi d'accusa, ancora due funzionari, uno regionale, Giuseppe Noto, ed uno dell'azienda sanitaria di Catania, Salvatore Garozzo.